Benvenuti su Zooplanet, il canale dove ogni animale ha una storia da raccontare. Oggi vi portiamo nel mondo affascinante del pastore australiano, una razza che conquista cuori con la sua intelligenza e bellezza. Avete mai visto un cane che sembra capire ogni vostra parola? Che con uno sguardo vi dice esattamente cosa pensa? Questo è solo un assaggio di ciò che il pastore australiano può offrire. Rimanete con noi fino alla fine perché vi sveleremo un fatto sorprendente su questa razza che pochi conoscono. Prima di iniziare cosa ne pensate del pastore australiano? Scrivetelo sotto nei commenti e se il battito del vostro cuore accelera per gli animali, questo è il posto che fa per voi. Cliccate su iscriviti e attivate le notifiche. Unisciti alla nostra comunità di amanti degli animali dove ogni settimana esploriamo insieme nuove storie, consigli e segreti del regno animale. Le origini e la storia del pastore australiano. A pastori australiani, noti anche come Australian Shepherds o Aussie, nasconde dietro il suo nome un paradosso geografico. Non ha origini australiane. La sua storia inizia negli Stati Uniti nel 1800, dove è diventato un pilastro nelle ranch americani. Contrariamente a quanto si potrebbe pensare, le sue radici sono legate ai cani da pastore europei e ai loro viaggi con i pastori baschi, che si trasferirono in Australia e poi negli Stati Uniti. La Aussie è stato addestrato per gestire grandi mandrie, una qualità che riflette la sua straordinaria intelligenza e resistenza. Questa razza ha guadagnato popolarità grazie alla sua abilità nel lavoro, ma anche per la sua indole protettiva e affettuosa, diventando così un amato compagno nelle famiglie. Caratteristiche fisiche Parlando di caratteristiche, il pastore australiano è un'opera d'arte vivente. Il suo pelo lungo e setoso sfoggia una varietà di colori e modelli, inclusi blu merle, rosso merle, nero tricolore e rosso tricolore, che lo rendono unico nel suo genere. Gli occhi della Aussie, che possono variare dal marrone all'azzurro, o anche essere eterocromi, cioè avere occhi di colore diverso, aggiungono un ulteriore tocco di mistero al suo aspetto. Con un'altezza che va dai 46a ai 58 cm e un peso compreso tra 20 e 30 kg, il pastore australiano combina agilità e forza, rendendolo perfettamente equilibrato per le sfide fisiche del lavoro di pastore o le attività quotidiane. Carattere dell'Australian Shepherds Il carattere del pastore australiano è tanto ricco quanto il suo aspetto. Questi cani sono noti per la loro intelligenza acuta, che li rende estremamente adattabili e facili da addestrare. Sono leali, protettivi e affettuosi con la loro famiglia, dimostrando un equilibrio perfetto tra energia e dolcezza. Tuttavia, Laussi non è un cane da divano. Il suo bisogno di esercizio fisico e stimolazione mentale è elevato, richiedendo un proprietario che possa dedicargli tempo e attenzione. La loro natura amichevole li rende eccellenti compagni per i bambini, con i quali condividono un legame di gioia e gioco. E ora, un momento per voi, cari spettatori. Avete storie o esperienze con un pastore australiano? Forse avete visto la sua incredibile energia o siete rimasti colpiti dalla sua intelligenza? Vi invitiamo a condividere nei commenti le vostre esperienze o domande su questa razza. La vostra interazione arricchisce la nostra comunità e aiuta altri appassionati a scoprire di più su questi cani straordinari. Che aspettate? Raccontateci la vostra storia! Pro e contro del pastore australiano. Possedere un pastore australiano ha una lunga lista di pro e contro? Tra i vantaggi c'è la sua incomparabile compagnia. Un Aussie porta energia, intelligenza e amore in ogni casa. Sono anche guardiani eccellenti, sempre pronti a proteggere la loro famiglia. Tuttavia, il rovescio della medaglia include la necessità di dedicare tempo all'esercizio quotidiano e alla stimolazione mentale. Poiché sono estremamente intelligenti, possono diventare annoiati facilmente se non impegnati mentalmente. I giochi di intelligenza e i puzzle alimentari sono ottimi modi per mantenere la loro mente attiva. Senza di essa possono diventare ansiosi o disturbati. Inoltre, la loro natura protettiva richiede un'educazione attenta per assicurarsi che la loro vigilanza non si trasformi in aggressività. Scegliere di accogliere un Aussie nella vostra vita significa impegnarsi a soddisfare queste esigenze con amore e dedizione. 6 curiosità sul pastore australiano? 1. Un eroe in acqua. Una delle curiosità meno note sul pastore australiano è la sua sorprendente abilità nel salvataggio acquatico. Nonostante la loro origine come cani da pastore, alcuni Aussies hanno dimostrato eccezionali capacità nel nuoto e nel salvataggio di persone in difficoltà in acqua. Questo li rende non solo compagni versatili in terra, ma anche eroi inaspettati nelle situazioni di emergenza acquatiche. 2 stelle del cinema. Il pastore australiano non è solo un compagno fedele e un lavoratore instancabile, è anche una star del grande schermo. Grazie alla loro intelligenza e facilità di addestramento, gli Aussies sono apparsi in numerosi film e programmi televisivi, rubando la scena con la loro presenza carismatica. Uno dei più celebri pastori australiani sul grande schermo è Rex, il fedele cane pastore australiano del film Babe, maialino coraggioso. Rex è il mentore del protagonista Babe, un maialino che sogna di diventare un cane da pastore. La performance di Rex nel film ha catturato il cuore di molti spettatori. La loro capacità di eseguire comandi complessi con facilità, li rende attori naturali davanti alla telecamera. 3 cani terapeutici. Oltre a essere eccellenti cani da lavoro e compagni di vita, molti pastori australiani vengono addestrati come cani terapeutici. La loro natura sensibile e intuitiva li rende particolarmente adatti a fornire conforto e supporto a persone in ospedali, scuole e case di cura. Gli Aussies hanno un modo unico di connettersi con gli umani, offrendo amore e sostegno incondizionati a chi ne ha più bisogno. 4 agilità straordinaria. Grazie alla loro agilità e alla loro intelligenza, i pastori australiani eccellono in numerosi sport canini, come l'agility, il frisbee e l'earning trials. La loro capacità di apprendimento rapido e la loro agilità li rendono anche eccellenti compagni per attività all'aperto con i loro proprietari. 5. Instinto di protezione. Nonostante la loro natura amichevole, i pastori australiani possono avere un forte istinto di protezione verso la loro famiglia e il loro territorio. Questo li rende eccellenti cani da guardia, capaci di avvisare i proprietari di eventuali intrusioni o situazioni pericolose. 6. Tendenza alla vocalizzazione. Molti pastori australiani tendono ad essere piuttosto vocali e possono abbaiare, ululare o gorgogliare per comunicare con i loro proprietari. Questo tratto può essere gestito con l'adeguata formazione, ma è importante considerarlo quando si decide di adottare un pastore australiano. Grazie per aver trascorso questo tempo con noi alla scoperta del pastore australiano. Speriamo che il viaggio sia stato illuminante e che ora condividiate il nostro amore per questa razza eccezionale. Ricordate di iscrivervi a Zoplanet per più avventure nel mondo animale e di attivare le notifiche per non perdervi mai un aggiornamento. Fino alla prossima, continuate a esplorare il meraviglioso mondo degli animali insieme a noi. Arrivederci!